C'è qualcosa che comincia ad essere, diciamo, un po' di politica disturbante. E adesso vediamo, incontriamo quei altri personaggi, vogliamo leggere? Ok. Perché le storie delle famiglie sono diverse. Appunto, quello che è un gran po' di ricco, sono un po' di scuola, adesso è un po' di scuola. Prima dello scoppio della guerra, Iole, Irma e la loro mamma sollevano andare in vista almeno tre volte l'anno da un'amica della madre, di nome Ines. Il fatto che i loro nomi fossero così simili tra loro, Iole, Irma e Ines, deponeva il favore della vecchia amicizia che la mamma aveva con questa donna. Un'amicizia talmente profonda da quale scegliere per le figlie dei nomi simili al suo. Ines si deveva in una piccola frazione vicina a Roccapriola, nella zona dei castelli romani. Quando partivano da Roma che avevano andato a trovare, se le due ragazze era una gioia, dovevano prendere un tram dalla stazione Termi che le conduceva al ponte dell'Aquattanta e una volta così dovevano attendere una sorta di corriera dalla tracosseria cadente e piena di polvere che faceva una fermata approccio vicino alla stradina di accetto al potere della misteriosa donna. Per fare quella scampagnata di solito veniva scelta una bella giornata di sole. Partivano di mattina presto e a volte tornavano la sera tardi e con un paio di occasioni nelle quali si era messo improvvisamente a fiori erano rimasti a dormire da lei in quel casolare anche troppo grande e spesso per una donna sola. Su quel posto sembrava di essere il cuore dal mondo e il panorama che si soveva da lì era imparigiale. Se ci si fermava sulla aria si poteva vedere la pallata scampi a raggi e boschi di lì battuta da un gentile veretto profumato di terra e di fiori che scendeva verso Roma lontanissima. una macchia boschiva che si è venuta proprio dietro la casa del ministro e in una delle loro fine passeggiate lo leggo ma furono sorprese e inspeccionate all'incontro di già fare il ceno di una chiesa minuscolata senza bagno di preghiera, completamente sfoglia con un alzai nudo, basciato dai raggi di sole che raccoltevano da una fessura nottezza. in assoluto, visse loro che era stata sonsacrata e olemma risparrono perché la mamma si impiace dell'ordore quale fosse la magia di quell'uomo e perché gli si ripirasse sulla profonda carità. Eccoci.